Un'esperienza indimenticabile Per mettersi in gioco Brava, lascia venire nella curva e poi aspetti il salto Con il cavallo e con se stessi Alcuni usciranno da questa esperienza con le idee molto più chiare Già ho trovato dei grandi spunti Quindi sono veramente felice Il prossimo potresti essere tu Campus Masterclass